Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart Studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada Ena 1, ricordiamo la chiusura dell'entrata di Firenze Sud verso Roma per lavori fino al 12 marzo. La mobilità, possibili disagi per veicolo fermo o in avaria, sempre Ena 1, tra Valdarno e Incisare Gello verso Nord. Ena 11 restano code a tratti verso Firenze, tra Pistoia e Vivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Infipili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Scandicci per traffico intenso. E prima di salutarci per il trasporto pubblico locale, Torino Toscana in forma dello sciopero di 24 ore, proclamato per mercoledì 8 marzo. Fasce di garanzia uniche per tutta la Toscana, servizio garantito quindi tra le 4 e 15 e le 8 e 14, tra le 12 e 30 e le 14 e 29. Buon versetto in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.